Buonasera, diamo inizio a questo convegno che riassume parte delle tematiche che verranno proposte domani nella riunione plenaria, partendo dalla necessità di riconciliare le parole dette con i fatti realizzati. Generalmente si osserva una divaricazione fra ciò che si dice, in particolar modo da parte del decisore politico, e di quelle che sono poi le scelte conseguenti. Gli aspetti che stasera andremo ad approfondire riguardano due temi particolarmente rilevanti. Sono rilevanti per la politica sanitaria del nostro Paese, sono rilevanti perché declinano la linea di sviluppo delle politiche dell'assistenza farmaceutica sul territorio e l'accesso ai livelli essenziali di assistenza, tra cui l'accesso alle terapie rappresenta appunto assolutamente rilevante e consentono di comprendere se e quale ruolo nell'ambito delle due complesse tematiche spetta al farmacista. Sembrano due temi non collegati fra di loro ed invece come sono convinto che emergerà nell'approfondimento di questa tavola rotonda, sono temi che per alcuni versi sono causa ed effetto l'uno dell'altro in senso reversibile. Farmaci innovativi. Sappiamo tutti che la legge 405 del 2001 ha rappresentato un po' uno spartiacque, fra un prima e un dopo. Con l'ingresso della 405 e con l'articolo 8 in particolare, sostanzialmente si è introdotto nell'ambito del comparto farmaceutico un nuovo soggetto a cui è stata attribuita la facoltà di dispensare. Per la verità abbiamo noi della federazione degli ordini farmacisti italiani una particolare attenzione su questo verbo. Molto spesso lo si assimila quello della dispensazione con quello della distribuzione. Pensiamo senza volerci imbucare in valutazioni semantiche molto complesse che siano due cose sostanzialmente diverse. Noi riteniamo che la dispensazione è quella che il farmacista effettua consacrando, se me lo permettete il termine, sull'attare della professionalità il suo atto di consegna di un medicinale che non è mai un atto professionale banale. Se mai è un atto che deve riempirsi sempre di più di maggiore valenza e di significato per tutta quanta una serie di motivazioni attinenti il ruolo che il farmacista può e deve svolgere in un percorso di evoluzione delle sue competenze sul versante del buon governo della spesa farmaceutica e più in generale delle politiche del farmaco. Di fatto la 405 ha consegnato ad un terzo soggetto, cioè alla struttura pubblica, la facoltà della distribuzione. Perché credo che lì si tratti più di distribuzione, lo dico con grande rispetto nei riguardi dei nostri colleghi che operano nelle farmacie di territorio degli ospedali, delle farmacie pubbliche, che è leggermente differente rispetto all'atto della dispensazione dove la competenza si intreccia con un'antica vocazione al servizio e completa l'atto della consegna di un farmaco con una serie di predisposizioni al consiglio, all'accompagnamento, all'accudimento, a quel care che associato a pharmaceutical non ci racconta della cura farmaceutica, ma ci racconta in una interpretazione, in una traduzione più corretta, della attenzione che si destina all'atto della dispensazione. Fatto sta che per i motivi più vari, parte dei quali, parte cospicua dei quali riconducibili agli obblighi di governo economico della spesa, sostanzialmente la farmacia è stata, per alcuni versi, espropriata di un ruolo e di una funzione. Poi nella dialettica politica si è sempre, per così dire, dato un condimento di motivazioni necessitate dall'esigenza del monitoraggio. La possibilità della dispensazione dei medicinali cosiddetti innovativi per il tramite delle farmacie ospedaliere in attuazione del comma C dell'articolo 8 della 401 di fatto ha determinato, non sappiamo quali vantaggi sotto il profilo economico, sappiamo certamente che ha portato un progressivo impoverimento non solo economico ma anche di competenze professionali e di saperi di una fetta sempre più importante, oggi più che mai in una prospettiva nella quale i farmaci innovativi riempiono ormai in modo prepotente e per fortuna, perché lo fanno anche con risposte terapeutiche ad altissimo livello di efficacia, l'offerta del nuovo armamentario farmaceutico al bisogno di salute. Cito uno per tutti, il sofosfubir e l'eradicazione della epatite C, per non parlare degli antiretrovirali e di tutto ciò che la ricerca farmaceutica nazionale ed internazionale ci consegnerà sul versante delle terapie oncologiche, delle terapie neurodegenerative e dell'Alzheimer, per citarne soltanto alcune. Oggi noi siamo a chiederci se e come i farmaci innovativi possano, in una logica di riscrittura complessiva del sistema delle regole, ritornare nella loro casa. Possano ritornare nella farmacia del territorio, che è il presidio di prossimità, dove un professionista è sempre pronto a dare assistenza e risposte adeguate alla domanda. Certo, in una risposta che nella scorsa legislatura il ministro Balduzzi dette ad una mia interrogazione in aula, si capì sin da allora che c'era un tendenziale ripensamento rispetto al ritorno dei farmaci innovativi in farmacia, naturalmente conservando al patrimonio della farmacia ospedaliera quelli per i quali l'esigenza di monitoraggio non rappresentava un pretesto, ma una effettiva necessità di monitoraggio degli effetti complessi del farmaco innovativo. Di fatto si sono fatti molti passi in avanti. La federazione degli ordini con Andrea Mandelli e il comitato centrale, in un rapporto estremamente corretto e dialetticamente sempre molto chiaro e trasparente, ieri con Luca Pani, oggi con Mario Melazzini, consente di aprire la porta della farmacia per il ritorno di una fettina dei farmaci innovativi in farmacia. Una concessione? Direi di no. Il riconoscimento di qualche esuberanza di troppo, nella consapevolezza, me lo si consentirà, che la politica sanitaria del nostro Paese viene fatta troppo più spesso in Via 20 Settembre, che non a Lungotevere e Ripa. La possibilità di vedere il ritorno, che in parte è stato indicato con provvedimenti adottati da Luca Pani nell'ultimo periodo della sua direzione generale dell'AIFA, e che in parte prosegue con una rinnovata attenzione del direttore generale Melazzini, ci lascia indubbiamente ben sperare. Ma la domanda successiva è il farmacista è pronto, ha un livello di competenza, abbiamo poc'anzi terminato di fare una riflessione sul patrimonio dei saperi, che il farmacista deve vedere accorrentati con il tempo, per essere sempre pronto a dare una risposta scientificamente supportata alla nuova domanda, e vi compresa soprattutto quella sul versante dei farmaci innovativi. e quindi formazione, parola d'ordine. Non c'è un atteggiamento di tipo rivendicativo da parte della professione, c'è l'esigenza di vedere ristorate delle legittime esigenze, e c'è l'impegno contestuale di assumersi questa responsabilità, declinando ogni necessario impegno per evolversi sotto il profilo delle competenze. E quindi i programmi di aggiornamento e di formazione, che rappresentano uno dei punti centrali della attività della federazione degli ordini dei farmacisti, che anche in questo, in una logica condivisa con l'Agenzia Italiana del Farmaco, possono essere consegnati alla comunità professionale, con, se me lo permettete, un sigillo di garanzia, che viene da due organismi dello Stato, in una direzione che tenti di riconciliare lo Stato con il mercato. Ultimo aspetto, l'aderenza alle terapie. Luca Panni ci spiegherà perché improvvisamente siamo passati dal termine aderenza, al termine adesione. Probabilmente non sono poche le modifiche che superano gli aspetti lessicali o semantici del termine, ma che hanno implicazioni sulle quali vale la pena di riflettere. Quello è un versante sul quale noi, ormai, sulla spinta del documento di Palazzo Marini del 2006, e sei abbiamo sviluppato la cosiddetta farmacia dei servizi che in primis vede nella pharmaceutical care il recupero dei servizi cognitivi che il farmacista può e deve svolgere in una logica possibilmente di esclusività di competenze e in una logica che non consideri concluso l'atto professionale con la dispensazione di un farmaco, ma che veda invece proseguire questa attività di consulenza anche nell'ex post per misurare i livelli di efficacia della terapia in ragione dei livelli di adesione alla terapia stessa con riferimento allo schema posologico indicato dal medico. E qui il racconto sul livello di disubbidienza dei cittadini italiani la dice lunga su come e quanto questa attività del farmacista possa generare virtuosismi sia per efficientare il livello di risultato terapeutico e sia per ottenere un maggiore e migliore governo della spesa. Concludo qui lasciando una piccola considerazione finale. E' rimasto, caro Luca, chiuso nei cassetti, non so se del Ministero della Salute, dell'Economia o dell'AIFA, un accordo che aveva riconsiderato in modo complessivo il livello di remunerazione dell'atto professionale del farmacista. E' rimasto chiuso per troppo tempo e tutto è rimasto com'era. Così non va. Di recente abbiamo approvato con il Mille Proroghe un differimento di un altro po' di mesi per definire le intese, gli accordi che portano ad evolvere i lavori del tavolo di Palazzo Ghigi sulla governance del farmaco. Speriamo che sia l'ultima volta. Qui è una risposta importante. Credo che la farmacia ed il farmacista che in quell'esercizio, che è un esercizio ormai conclamato come presidio socio-sanitario del territorio è pronto per svolgere un'attività che sia necessariamente svincolata dalle logiche delle percentuali del valore del farmaco ceduto. Noi crediamo che l'ingresso di un principio di onorario professionale ci svincoli dagli aspetti più meramente mercantili e ci agganci a quel fee for service dentro il quale noi siamo pronti ad accettare la sfida e ad aggiungere competenza alla dispensazione di un farmaco in condizioni di sicurezza, di appropriatezza, di buon governo, della spesa e di efficacia delle terapie. Questo è un servizio ad alto livello di professionalità che noi intendiamo svolgere, che siamo pronti a svolgere in perfetta sintonia con l'autorità regolatoria e in aderenza con quella che è anche la nostra mission che riteniamo assolutamente modulabile al mondo che cambia. Di questi argomenti parleremo in questa tavola rotonda. Il parterre, come vedete, è di assoluto rilievo. Abbiamo, li cito così, in ordine come li vedo Andrea Manfrin, nostro collega dell'Università del Kent che ha con noi fatto passi importanti nell'ambito del complesso delicato e, vorrei dire, pionieristico progetto del Medicine Use Review. Poi abbiamo il professor Alessandro Mugelli, incoming president della Società Italiana di Farmacologia, oltre che ordinario di farmacologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Siena. Il nostro... Ho detto di dove invece? Di Firenze. Non confondiamo la seta con la lana. Non confondiamo la seta con la lana. Il nostro presidente Andrea Mandelli e il professor Luca Pani che svolge autorevoli funzioni nell'ambito dell'EMA e che abbiamo conosciuto all'opera come direttore generale di AIFA e per ultimo, ma non certamente da ultimo, il professor Mario Melazzini al quale insieme a voi tributo un saluto particolare perché è la prima volta che in questa nuova veste di direttore dell'AIFA interviene al nostro congresso e con il quale abbiamo avviato un rapporto di collaborazione che sono convinto per le sue sensibilità e le sue capacità, soprattutto, più che non per i nostri meriti, produrrà delle cose positive per la nostra professione. Auguri e buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio a tutti e soprattutto grazie veramente per le parole che mi sono state rivolte e indipendentemente da tutto, indipendentemente dal ruolo che attualmente ricopro, ho sempre considerato e considero e considererò sempre il ruolo, la funzione, la professionalità del farmacista, ma non perché ci troviamo in questo contesto, fondamentale, indispensabile per garantire ciò che io ho sempre definito anche nei miei trascorsi regionali, strumento indispensabile a garanzia e garante anche della continuità assistenziale. Ecco, questo lo voglio dire in maniera estremamente chiara e precisa perché oggi io farò mi scuserete, c'è proprio dieci minuti di riflessione insieme a voi utilizzando qualche slide e parlando, però adesione parlerà Luca poi, io parlerò sempre di aderenza perché l'aderenza fondamentale chiaramente è cascata rispetto al percorso poi della proprietezza è uno strumento anche di garanzia di sostenibilità della spesa in maniera indiretta proprio a recupero di tutto ciò che possono essere costi indiretti sanitari o anche costi diretti e indiretti dal punto di vista sociale rispetto a ciò che è proprio la certezza nella quotidianità di avere la sostenibilità della spesa. Nei primi nove mesi del 2016 abbiamo circa 22 miliardi di spesa di queste al 77% è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale e tutto questo ci deve portare a riflettere proprio in merito a tutto ciò che sarà la proiezione futura sulla sostenibilità alla luce di tutto ciò che è considerato farmaco innovativo. e sul quale e qui ci tengo a sottolineare a essere nella continuità di un pensiero e di un lavoro che è stato fatto dal mio collega e amico professor Luca Pani in merito a evidenziare e far emergere maggiormente la professionalità del farmacista anche per quanto riguarda la potenzialità su alcune diciamo specificità sui farmaci innovativi alcuni farmaci innovativi allora aspettate ok questa è semplicemente per richiamare ciò che l'organizzazione mondiale della sanità ha sull'aderenza terapeutica che è tutta una questione in cui ci sono diversi fattori che possono incidere che possono essere correlati al paziente prima di tutto correlati alla patologia alla terapia stessa all'assistenza ma soprattutto correlati anche al sistema parlando di aderenza però terapeutica diventa fondamentale fermarci un attimino a fare una riflessione rispetto al contesto e allo scenario l'evoluzione dello scenario di riferimento in cui noi ci troviamo alla luce e qui invito proprio a riflettere su un ruolo importante che può avere il farmacista perché quando io parlo parliamo di invecchiamento della popolazione vi ricordo una cosa il 30% della popolazione diciamo nostra italiana è affetto da patologie croniche è affetto da comorbidità è affetto soprattutto da condizioni che grazie all'evoluzione delle terapie della scienza medica e tutto ha provocato in maniera positiva un allungamento della vita ma nello stesso tempo va a assorbire risorse del 70% di quello che è il Fondo Sanitario Nazionale indipendentemente da tutto ecco su questo va a incidere e impattare tutto ciò che comporta una non perfetta e una non corretta aderenza terapeutica e qui diventa fondamentale proprio in quella continuità adesso capire esattamente avere degli indicatori ma mettere a disposizione anche degli strumenti al farmacista come non solo un messaggio di informazione che vedremo di comunicazione di cultura amplificata rispetto al coinvolgimento di tutti gli attori della filiera che garantiscono una risposta alla domanda di salute ma io penso che perdonatemi se uso la parola strumento riferito a una professione molto forte qualificata come farmacista ma soprattutto anche di controllo dell'aderenza terapeutica questo è di conseguenza della sostenibilità della spesa oltretutto c'è un altro fattore che è una variabile che è estremamente importante c'è un punto che io dico che vado a segnare come disomogeneità regionale perché disomogeneità regionale perché sappiamo benissimo nel momento in cui noi come agenzia mettiamo a disposizione un farmaco andiamo a stabilire la rimborsabilità codifichiamo il prezzo poi abbiamo un tempo di accesso al mercato estremamente lungo ma soprattutto se fosse abbastanza omogeneo in tutte le regioni ma ci troviamo che la regione A eroga magari a disposizione il farmaco una tempistica A più 1 e la regione Z ha la tempistica A più XX mesi ecco in tutto questo c'è una figura però che lega tutti che è la figura dal punto di vista professionale che è il farmacista anche perché ci sono delle specificità estremamente precise in cui come la figura del medico come la figura di tanti altri stakeholder interessati nella filiera di risposta della domanda di salute il farmacista è sempre una costante vuoi a livello territoriale vuoi a livello ospedaliero ecco questa è una cosa su cui noi come sistema dobbiamo tenerne assolutamente conto dobbiamo tenerne conto rispetto al fatto che sono i vari attori voi sapete che pochi mesi fa è stato approvato il piano nazionale della cronicità in cui si va a enfatizzare moltissimo il ruolo del paziente cioè l'empowerment anche del paziente ecco e qui faccio un passo indietro ancora chi oltre al medico di medicina generale lo specialista ha nella quotidianità quasi il rapporto col paziente soprattutto in quella fascia diciamo quel 30% di pazienti affetti da patologie croniche il farmacista ecco sono tutte cose che magari diamo per scontato ma non devono essere date per scontate proprio quando si costruisce tutta una filiera nell'ottica di una programmazione di un sistema in un'ottica anche come diceva il senatore all'inizio per quanto concerne la nuova governance che questo apro e chiudo la parentesi rapidamente non ci sarà più nessun rinvio è indispensabile e fondamentale avere a disposizione la nuova governance la spesa farmaceutica alla luce proprio di quel contesto di quello scenario in evoluzione che ci troviamo a vivere nella quotidianità se no assolutamente è un continuare rinviare il problema e di conseguenza trovarci nella difficoltà assoluta ci sono vari passaggi per quanto riguarda il piano nazionale della criticità in cui vengono ribaditi dei principi e dei concetti ma soprattutto rispetto anche alla questione che vi citavo all'inizio sulla potenzialità di recuperare risorse rispetto a tutto ciò che può essere sui costi e questa è una cosa mi dispiace sfruttare vabbè abbiamo sempre lavorato in coppia quindi un'altra cosa importante che voglio richiamare anche sul ruolo del paziente è sul nuovo regolamento europeo la 536 che entrerà in itinere tutto ma entrerà in vigore passattivo dall'ottobre del 2018 ecco l'importanza dell'aderenza alla terapia questo è fondamentale perché sembra talmente scontato tutta una serie di di affermazioni che facciamo anche nella quotidianità ma poi in effetti in effetti nella realtà tutto ciò non avviene rispetto a tutto ciò che realmente si dovrebbe fare quindi quale strategie sicuramente diciamo andare a stimolare e a simulare e a implementare tutto ciò che può essere un programma di automonitoraggio e di autogestione e soprattutto rispetto sempre a quella fascia del 30% dei programmi semplificati diciamo di dosaggio soprattutto per quanto riguarda il piano terapeutico e soprattutto fare informazione l'informazione fondamentale è coinvolgere tutti gli attori della filiera coinvolti per quanto riguarda la garanzia della risposta della domanda di salute ecco il concetto di aderenza nella gestione della cronicità ci sono degli elementi degli elementi chiave per quanto riguarda la gestione della cronicità prima fra tutto è l'aderenza ma aderenza di tutti cioè non solo della paziente della persona affetta dalla varia patologia ma anche degli operatori diciamo questo è fondamentale la propria terza e aderenza sono una in continuità e in contiguità dell'altro però diventa fondamentale anche che l'operatore quando dico operatore anche il medico e anche il farmacista tutte le altre figure diciamo nella filiera della presa in carico della persona una persona in particolare affetta da patologia cronica diventa fondamentale stressare questo concetto un esempio classico di patologia che nella quotidianità va a impattare moltissimo anche sulla gestione del nostro sistema che sono le persone i pazienti con broncopneumopatia cronica costruttiva e come sapete buona parte di questi pazienti affetti da BPCO sono pazienti anziani avanti con l'età pazienti che hanno una grande difficoltà nei disposable nei device da utilizzare soprattutto quando si cambiano ecco e questo va a scapito tutto diciamo a parte dell'aderenza terapeutica ma soprattutto dell'efficacia terapeutica e qui ci sono uno degli n lavori che sono stati fatti anche da autori italiani questo è un qualcosa che deve essere assolutamente considerato anche in questo nell'aderenza ci troviamo e chi meglio di voi lo può dire anche a spiegare al paziente nel momento in cui o al familiare del paziente l'utilizzo anche dei device o del dispositivo quindi anche un meccanismo ulteriore di aggiunta di implementazione sinergico a tutto quanto già anche il medico di famiglia o il medico specialista può fare per il paziente questi sono i dati di aderenza al trattamento del 2015 veramente cioè noi abbiamo i dati di aderenza che sono sotto il 15% questo ci deve fare estremamente riflettere questo c'è il 13-4% cioè questo è un qualcosa che in una società cioè in una condizione in cui va a impattare forte sulla salute su una domanda di salute molto importante ma allo stesso tempo anche sulla sostenibilità della spesa su questo noi dovremmo fortemente interrogarci e che cosa possiamo fare noi come come AIFA a volte sembrano strumenti burocratizzanti ma sono strumenti estremamente efficienti laddove c'è una consapevolezza da parte di chi sia da chi li propone e gli dà indicazioni ben precise da chi li compila di chi li mette in pratica praticamente consapevolezza soprattutto di appropriatezza ma anche di adesione poi di aderenza alla terapia ma soprattutto anche di gestione e monitoraggio della spesa che vanno dalle note AIFA fino ai piani terapeutici e i registri di monitoraggio questa è una cosa importante ecco noi dobbiamo cercare di scardinare dal punto di vista istituzionale la lettura burocratizzata dell'atto anche adesso per esempio ritornando al BPCO un lavoro che aveva iniziato anche Luca lo stiamo seguendo con gli specialisti pneumologi e con i medici di medicina generale senza togliere la specificità di ognuno il ruolo di ognuno ma proprio cercare di avere sempre più di stressare proprio la propria tezza ma nello stesso tempo mettere a disposizione degli strumenti che la ricaduta positiva e funzionale è solo esclusivamente per il paziente ecco l'informazione non voglio non è che non voglio parlare di innovativi e di innovatività lo lascio alla fine però perché alla luce di quanto sia importante il concetto dell'aderenza come strumento anche di sostenibilità della spesa rispetto a quel discorso che avevo fatto all'inizio cioè non in maniera diretta ma anche in maniera indiretta tutto ciò deve essere a fronte anche di una correttissima informazione come vedete cioè i pazienti nella prima slide quello che riguardava il contesto in cui noi ci troviamo e l'evoluzione dello scenario di riferimento all'ultimo ma non per ultimo c'è la paziente maggiormente informato e coinvolto e consapevole spesso questa consapevolezza e informazione il paziente lo fa con il dottor Google quindi vediamo come i social impazzano su questo e a volte con tutto rispetto per le notizie che ci possono essere a volte non sono notizie perfette o informazioni perfette e a volte l'interpretazione non è corretta quindi è qui l'interazione fondamentale che deve essere fatta con gli attori diciamo di tutta la filiera soprattutto con gli operatori poi c'è tutto lo strumento che noi anche come AIFA possiamo fare sull'informazione indipendente su determinati indeterminati via determinati canali come pure anche delle campagne di comunicazione specifiche come ad esempio sugli antibiotici per quanto riguarda l'antibiotico ad esempio l'antibiotico resistenza questo è il classico esempio in cui c'è la non aderenza terapeutica perfetto c'è la prima puntata febbrile iniziare l'antibiotico per due giorni un giorno tre giorni tenere la scatoletta in casa il blister in casa riniziarlo tutta una serie di cose ecco gli strumenti per sostenere la spesa sono anche le corrette campagne di informazione di comunicazione in cui tutti siamo chiamati dalle istituzioni a chi è operatore stakeholder ma anche operatore deputato a garantire quella risposta al bisogno di salute ecco vi lascio sull'innovatività perché rispetto a che ruolo potrà avere anche la vostra professionalità la vostra professione questo è quanto noi stiamo facendo voi sapete che nell'ultima legge di bilancio è stato detto è stato scritto che entro il 31 di marzo tra un paio di settimane noi dobbiamo andare identificare i criteri sui farmaci innovativi farmaci innovativi farmaci innovativi oncologici che cos'è innovativo poi cioè parliamo tanto ma qualcosa che dà un valore terapeutico aggiunto rispetto a delle condizioni delle patologie delle condizioni estremamente gravi che mettono in pericolo di vita al paziente o che vanno in evoluzione verso gravi quadri di disabilità inficiare traumaticamente la qualità della vita del soggetto della paziente della persona rispetto a tutto ciò che però è un bisogno terapeutico rispetto a ciò che è un valore come vi dicevo poc'anzi terapeutico aggiunto rispetto a che cos'è esattamente poi la dimostrazione di tutti questi due punti precedenti cioè la qualità delle prove e la robustezza degli studi con una piccola parentesi perché tutto questo con un'attenzione particolare alle malattie rare cioè quindi alle persone affette da malattie rare perché nelle patologie rare trovare una robustezza degli studi è un po' estremamente difficile per arrivare poi a definire ciò che è una nuova attività diciamo terapeutica importante piuttosto che potenziale condizionale perché vi dico questo che diciamo alla figura al ruolo del farmacista è importante che lo sappia perché tutto questo è a scapito di ciò che è una capienza di fondi che ci sono c'è il fondo per gli innovativi 500 milioni all'anno per tre anni che non sono solo i fondi per i farmaci per l'epatite C ci sono altri farmaci che sono entrati già pensiamo ad esempio per la fibrosi cistica piuttosto che i farmaci oncologici innovativi ecco molti di questi farmaci molti di questi farmaci sono per somministrazione orale ecco questo è un discorso che si può andare ad aprire rispetto anche a quanto diceva all'inizio il senatore rispetto al ruolo al riconoscimento del farmacista questa è un po' la sfida futura io vi lascio un attimino con alcune immagini rispetto a quello che è stimolare diciamo l'aderenza e il percorso diciamo di informazione quindi ricordandoci che tutti noi io lo dico sempre sono un po' fobico in queste mie dichiarazioni c'è il paziente che è sia destinatario che parte attiva anche nel processo e questo è fondamentale con tutti gli attori che vanno chiaramente quindi la parola chiave sempre è informazione ma soprattutto sensibilizzazione dal punto di vista culturale ecco chiudo con questo com'è il futuro è una questione di equilibrio per garantire risposte concrete ai bisogni di salute dei pazienti questo è fondamentale cioè quando si va in bicicletta per non cadere bisogna sempre pedalare è un po' quello che facciamo un po' tutti noi però l'altra cosa importantissima e questo è rivolto sia ai pazienti ma anche a tutti gli operatori una frase che a me è molto cara prima di tutto è un po' il mio mentore per quanto riguarda la patologia di cui sono affetto è proprio sulla frase che disse Stephen Hawking sull'intelligenza la capacità diciamo di essere pronti al cambiamento quindi bisogna cambiare anche degli atteggiamenti e questo a partire dal paziente ma anche degli operatori per poter garantire che tutti insieme siamo a parte attiva per garantire una reale sostenibilità della nostra della spesa ma soprattutto una reale risposta e concreta risposta al bisogno del paziente grazie io spero che questa lucida chiara efficace sintetica illustrazione possa ispirare il decisore politico e possa dare un'accelerata ai lavori del tavolo della governance perché mi pare che si vada in una strada che oltretutto è la prima volta che si sente in termini così evidenti acquisisce il principio della sostenibilità come una vera e propria emergenza e quindi credo che parlando la lingua della verità individuiamo le criticità e probabilmente riusciamo a dare delle risposte ancora grazie vi chiedo scusa il professor Melazzini adesso unitamente al nostro presidente abbandonerà i luoghi del nostro convegno per recarsi in un altro convegno in questi due giorni e mezzo ne abbiamo 54 che impegnano oltre 300 relatori ci sono delle sovrapposizioni però il sistema consentirà una registrazione per cui esposta avrete tutti la possibilità di approfondire i temi che verranno posti in discussione però adesso proseguiremo il nostro convegno dando la parola al professor Luca Pani e naturalmente salutando con un rinnovato applauso il professor Mario Melazzini grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per avermi invitato è sempre è un po' che vengo a farmacista più alla fine quindi c'è una certa continuità molte cose le ha dette il professore quindi questo mi facilita il compito e anche cerco di guadagnare un po' di tempo questa differenza su cui abbiamo insistito tra l'adesione e l'aderenza e anche l'anno scorso a Firenze ho fatto queste considerazioni tipo etimologiche è abbastanza interessante perché queste due parole hanno esattamente un significato opposto in inglese rispetto all'italiano cioè in inglese vengono tutti e due dal latino aderere ovviamente ma in inglese aderence significa l'adesione proattiva e adhesion significa invece quella fisico chimica da noi è esattamente il contrario se andate a guardarvi il vocabolario della Treccani è così poi compliance lasciamo perdere e questo ha fatto in modo che noi abbiamo parlato di aderenza per molti anni ma l'aderenza è quella dei pneumatici alla strada quella è l'aderenza il pneumatico è un un essere inanimato non ha bisogno di un'azione proattiva per aderire alla terapia l'adesione è qualcosa che invece richiede un'azione da parte mia di convincimento ed ecco che qui viene il farmacista perché la parte mia sarebbe il paziente che deve continuare a prendere i farmaci allora avete visto i numeri veri che sono questo 15% e sono interessantissimi quali sono i concetti di adesione alla terapia secondo a chi chiedete se chiedete per esempio a un paziente psichiatrico vi dice che di solito ha un'adesione a terapia del 100% ovviamente questo ve lo dico a psichiatra la realtà è meno del 10% infatti abbiamo dovuto sviluppare il depo guarda un po' è l'unica area dove a parte qualche vitamina oleosa noi siamo siamo stati costretti a che non è una cosa che piace a nessuno a inventare dei long acting che si somministrano una volta al mese o addirittura adesso una volta ogni tre mesi figurati quanto mi fido che tu prendi i farmaci tanto ti faccio un'iniezione che dura tre mesi poi vediamo se lo chiedete ai familiari ti dicono che è circa il 50% se lo chiedete ai medici medicina generale e a molti farmacisti ti dicono che è intorno al 30-40% 25% se lo vai a misurare quindi fai i livelli plasmatici è il 15-18% questa è l'adesione e che cos'è il 15-18% è la quota praticamente della popolazione generale di quelli che hanno dei tratti ossessivi che sono gli unici che prendono le medicine con attenzione sono loro dei tratti ossessivi non il disturbo ossessivo compulsivo quelli sono molti di meno i tratti ossessivi se voi siete precisi eccetera fate le cose ordinate siete puntuali fate le cose avete anche una certa etica di comportamento voi avete un'aderenza alta o un'adesione alta decidete la parola che vi piace di più cosa succede alla mancanza di adesione succedono queste cose quindi usa dosi errate in condizioni non consone anzitempo una delle cose più comuni che si fanno e su cui il farmacista avrebbe un ruolo importantissimo è ma questa medicina si prende col cibo o senza cibo è una roba che guardate anche lì l'adesione alla terapia è tecnicamente giusta ma se prendete gli ormoni tiroidei e ci mangiate tutta la colazione non li avete presi e questo implica una serie di cose il TSH si solleva nessuno poi va a chiedere come li sta prendendo se prendete un diuretico famoso come la furosemidio ormai generica quindi non facciamo pubblicità e la prendete quando mangiate l'effetto lo avrete ma l'avete distribuito secondo come mangiate in diverse diverse ore e questo implica che dovete avere un bagno vicino per diverse ore se lo prendete a stomaco vuoto e magari avete fatto un carico di sodio il giorno prima vi serve un bagno subito a partire da 10-15 minuti dopo per due ore ogni 10 minuti quindi questo cambia notevolmente l'adesione un paziente non sono tutti i farmacisti tutti i medici non capisce certe dinamiche dell'assorbimento distribuzione metabolismo iscrizione l'aria sotto la curva guarda Alessandro tutta la farmacocinetica è ovviamente ma vede l'esperienza e di quello si regola cosa succede a non aderire la malattia può peggiorare ci sono possono essere complicanze certo possono aumentare i rischi di cronicizzazione e tutte le altre cose che ne derivano e cresce ovviamente l'impatto socio-economico perché ha un costo relativamente basso implica poi l'avete sentito anche dal professore una serie di altre conseguenze questo è quello che dice l'OMS noi lo abbiamo scomposto siamo passati e questo immaginatevelo ogni volta che vedete il paziente nella filiera di come si prende una medicina sono correlati al paziente diffidenza reazioni avverse scarsa consapevolezza della malattia i maschi e le femmine da questo punto di vista sono straordinari sono straordinari in genere per le differenze che hanno i due cervelli sono completamente diversi ma i maschi fanno veramente molta fatica a partire con l'adesione alla terapia infatti arrivano di solito tardi ma quando si decidono si agganciano a quel punto non mollano sono tignosi è difficile persino cambiarli l'avrete visto da farmacisti guardi che questa è esattamente la stessa cosa no se la scatola non è uguale io non cambio perché hanno delle caratteristiche di rigidità nella personalità senza sempre psichiatra sono io quindi non è che questo rimane ovviamente sono correlati alla patologia lo avete sentito correlati alla terapia correlati all'assistenza medica e questo peggiora ovviamente anche le qualità nella relazione medico-paziente cosa succede e sta succedendo questo ne parlava il senatore Lettieri anche un attimo fa e ce lo dicevamo a colazione sta succedendo che molti pazienti molti cittadini iniziano a non prendere i medicinali per ragioni socio-economiche non era mai successo tra l'altro adesso loro sono andati al al banco farmaceutico no il banco farmaceutico vi può raccontare come la richiesta salga di assistenza e come si inizia a spostare da le popolazioni diciamo immigrate eccetera ai residenti cittadini italiani nati e cresciuti in Italia che iniziano ad avere per la prima volta esperienza di povertà socio-sanitaria non sapendo anche perché c'è anche una vergogna e anche una povertà diciamo in alcuni casi educativa non sapendo che magari quelle medicine per loro in quella situazione sono assolutamente rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale non possono immaginare questo e la povertà si traduce poi in conseguenze non manca aderenza su conseguenze ben più gravi per la salute i soggetti più a rischio che voi avete davanti sono i due estremi per ragioni diverse i pazienti molto giovani i pazienti molto anziani ma molto anziani sono dai 70 75 anni in più non pensate agli ultracentenari e i molto giovani sono tutti quelli che hanno meno di 25 anni sono tutti molto giovani definiti a questo punto di vista sono i due estremi dove la comprensione di quello che poi determina e perché devo prendere questa medicina e perché la devo prendere tutti i giorni continuamente ma non lo dovrò mica prendere tutta la vita è quello che abbassa l'aderenza se poi questi pazienti sono anche psichiatrici e sono anche anziani e giovani immaginate la combinazione infatti la combinazione di questo porta quando un paziente è un paziente psichiatrico ed è o molto giovane o molto anziano le adesioni sono bassissime prefissi telefonici 07 08 praticamente niente è un paziente giovane psichiatrico è quasi impossibile da trarre il modello mentale è quello dell'influenza ho l'episodio ho preso l'attacchipirino quello che volete voi mi è passata la febbre non prendo più niente no mica sarai matto che devo prendere la medicina sempre assolutamente e la stessa cosa è il modello dell'anziano psichiatrico anche per ovviamente collateralità e così via e noi lo dico per primo come regolatore siamo stati molto scarsi nel darvi informazioni su questi due estremi ricordatevi i criteri di inclusione delle sperimentazioni cliniche ovvero i criteri di esclusione meno di 18 anni più di 65 se voi volete informazioni strutturate perché poi scusate l'aspetto grafico il sederino è il vostro no dice ma cosa fa questa medicina sotto i 18 anni e non lo sai in un dettaglio di un clinical trial è sopra i 65 non lo sai è tutto arrangiato off label per età ma guarda caso lo ha detto il professore il 65 70% di tutto il nostro bilancio per le medicine si spende sopra i 65 70 anni dove abbiamo meno informazioni cioè ci dobbiamo fare un paio di domande anche noi regolatori su questa faccenda perché non si vedeva che stavamo diventando più vecchi è 50 anni che si vede che stiamo diventando più vecchi e continua così continua dritta così quindi è chiaro quali saranno le popolazioni su cui dovrete essere più preparati ad affrontare i problemi della mancata adesione il farmacista è sicuramente il professionista più indicato lo ha detto lo ha detto il direttore generale dell'AIFA e i nuovi modelli devono prevedere ovviamente questo tipo di informazioni i nuovi modelli organizzativi e qui vediamo le adesioni ma non mi sottrago in questo punto a rispondere al senatore Lettieri su una cosa importante dove è ferma la remunerazione la remunerazione è ferma nei cassetti di via 20 settembre questo devo darti l'indirizzo se vuoi anche l'ufficio perché l'ufficio era quello del direttore generale Massicci in quel momento quando la remunerazione fu firmata da tutti e credo abbia un valore ora io non mi intendo di cose della giurisprudenza o notarili ma quella fu firmata quindi l'accordo di tutta la filiera c'era e molti di voi erano presenti e l'hanno firmata noi non ci dovevamo riuscire a firmare quella remunerazione invece ci riuscimo quindi è lì dove c'era il concetto della farmacia dei servizi dove c'era l'insieme della parte di attribuzione che dava ai farmacisti sia il ruolo quello classico diciamo della dispensazione ma anche un concetto più vasto di dare dei servizi quindi le linee guida che sono in forma che voi trovate che sono in forma ancora di draft vanno riviste vanno immagino avranno altri input da parte di vari livelli della professione contengono questo insieme di principi che abbiamo elencato quindi questo ve l'ho già detto l'accettazione e il requisito farà riduzione di sprechi l'ha detto già il direttore e porta in questo patto sulla continuità terapeutica porta il paziente al centro del sistema ma guardate questa non è retorica lo dicono tutti questa cosa del paziente al centro ma in realtà questa roba sta succedendo la consumerizzazione come la customization dei pazienti che si stanno trasformando in delle persone consapevoli ancora prima di avere il disturbo o che seguono l'andamento del farmaco e la modalità con cui il farmaco viene anche dispensato deriva dalla totale disponibilità che noi ormai abbiamo di informazioni al nostro palmo di mano perché ormai questi smartphone collegati con tutta la rete mirabile di internet consentono di avere una serie di informazioni che vanno certo dal dottor Google come avete sentito ma anche all'FDA o a luoghi dove assolutamente le informazioni sono controllate quindi il paziente sarà necessariamente al centro e il ruolo non può essere quello più della logistica ma deve dare questi servizi avanzati di cui il concetto della terapia è certamente questo perché poi questo facciamo dispensiamo una terapia e ci vogliamo assicurare che la terapia faccia quello che deve fare chi è che in questo paese si occupa del follow up nel territorio di prendere o non prendere una terapia chi se ne occupa ditemelo perché lo dico l'ho detto anche alla medicina generale non mi vergogno non mi sembra che siano i colleghi e i miei colleghi medici a poter a dover fare questo non possono essere certamente gli ospedali in una situazione di emergenza quando finalmente sei due anni e mezzo che continui a prendere l'ormone tiroideo a stomaco pieno e hai un gozzo alto così non riesci a respirare quindi vieni portato in codice quasi rosso perché hai una crisi respiratoria che deriva da quello che ti sta capitando quindi è evidente che questa ne parleremo domani questo home spital cioè questa trasformazione dall'ospital all'home spital che porta al territorio alla territorialità al centro della strategia generale e avviene nelle farmacie quindi è un ruolo di alleanza deve essere esplorata e deve essere negoziata e su questo vi do una buona notizia tra le cose che sentirete anche domani quando faremo l'incontro sulla information technology che cosa sta capitando l'unica parte dove le macchine per il momento non ci potranno sostituire è nella negoziazione uomo uomo quando ci sono i processi negoziali e dobbiamo metterci d'accordo e far sì che un paziente aderisca a una terapia vi assicuro che è un processo negoziale lo sapete meglio di me ma mi sembra che adesso sto meglio non vedo perché devo continuare poi ogni tanto provano a toglierla non succede niente perché l'aria sotto la curva è grande quindi non succede niente nell'immediatezza ci vogliono secondo qual è le mie vita diversi giorni in alcuni casi diverse settimane e quindi è confermato psicologicamente che in fondo di quella medicina non ne avevo così bisogno perché la mia pressione continua ad andare bene i miei trigliceridi continuano ad andare bene e non mi fanno più male le gambe cioè ci sono tutta una serie di altri meccanismi con cui bisogna negoziare e bisogna in qualche modo convincere il paziente che è meglio per lui o pensate quando dovete prendere e finisco medicina in totale assenza dei sintomi il vaccino è ovviamente il cornerstone la pietra angolare di questo ma pensate anche ai trattamenti cronici per esempio con gli antiaggreganti cronicamente in totale assenza di 70 mg 100 mg no non c'è non c'è sintomatologia non c'è la state forse aspettando ed è una è una cosa probabilistica per quello non pensatevi per quello che siete toglietevi la cultura che avete pensate la scelta di un paziente che non ha tutte le vostre competenze le vostre conoscenze che deve ma perché devo prendere questa cosa ogni mattina poi ogni tanto mi sembra che mi fa male lo stomaco non lo so provato a toglierla cioè è una è una dinamica continua psicologica che porta alla scelta che va ripetuta quindi c'è un molto grande un ruolo sull'educazione del paziente queste sono le tecnologie che arriviamo ne parliamo meglio domani tecnologie digitali attene monitoraggio app sulla salute ci sono delle cose che ti ricordano di prendere le medicine ci sono addirittura dei sensori adesso sono stati approvati sia da noi all'EMA che all'FDA che dicono se una medicina l'hai presa sono grandi come un granulino di sabbia arrivano nello stomaco vengono attivati dal pH basso e trasmettono un segnale sono delle batterie trasmettono un segnale in radiofrequenza che dice sono nello stomaco perché solo se c'è un pH a uno normale posso essere nello stomaco e se non ci sei nello stomaco ti mando un messaggio ti mando un messaggio perché chi deve ricevere ogni giorno il segnale dallo stomaco non lo riceve quindi manda un sms prima a te dicendoti devi prendere la medicina poi al tuo caregiver o alla tua rete di sicurezza quindi farmacista medico dopodiché se sei per esempio un paziente psichiatrico e alcuni di questi farmaci sono stati approvati per la psichiatria lo manda all'unità di assistenza psichiatrica che deve ovviamente venire prima che succedano le cose più gravi queste sono le conclusioni quindi ci sono mi sembra degli spazi per delle vantaggiosissime sinergie tra i medici e i farmacisti nella gestione delle competenze pur distinte non sarò io a dirvi di diventare medici o ai medici diventare farmacisti i professionisti devono interagire in maniera continua su questa assistenza nuova sul territorio bisogna migliorare l'efficacia e la sicurezza anche per evitare gli sprechi grazie Luca grazie una volta grazie in più se mi permetti perché come tutti ricorderete non si è soltanto indicata una strada e questo lo si è fatto in piena sinergia con l'autorità regolatoria cioè abbiamo condiviso questo percorso abbiamo sostanzialmente come federazione degli ordini segnato una strada che pian piano ci ha avvicinato all'acquisizione se me lo permettete di una consapevolezza perché poi le battaglie si vincono su due fronti uno è il fronte normativo regolamentare regolatorio e l'altro il processo culturale per il quale non bastano le leggi è necessario acquisire consapevolezza ed è questo il motivo per il quale abbiamo avviato una sorta di crociata una sorta di azione di apostolato laico per spiegare al farmacista soprattutto a qualche farmacista che talvolta è preso un po' da una crisi di identità che la professione ha moltissimo ancora da fare e da dare e da dire sui percorsi di buona governance e allora il secondo grazie lo voglio dire a Luca Pani perché questo documento che il comitato centrale della federazione degli ordini ha offerto alla condivisione della intera classe farmaceutica e che ha per titolo appunto linee guida per una migliore adesione alle terapie farmacologiche colma un vuoto qual è il vuoto quando è stato approvato il nostro emendamento nella scorsa legge finanziaria che in modo simbolico ha segnato il disco verde del governo sbaglio a dire così Luca perché so che poi il governo ha avuto da te l'input su quello stanziamento di un milione di euro per fare la sperimentazione sulla asma per quanto riguarda l'aderenza alle terapie indubbiamente ci siamo posti il problema la regione la regione la stato regione farà la suddivisione delle risorse un milione certamente troppo poco e queste risorse sono state distribuite in tutta Italia piccole somme però piccole somme che servono ecco a dare il primo giro di manovella allora ci siamo trovati davanti ad un rischio qual è il rischio il rischio che ogni regione di questa somma facesse una iniziativa propria in una solitaria interpretazione del concetto di adesione alle terapie e allora abbiamo detto no non si può abbiamo parlato con il ministro Lorenzin abbiamo parlato con l'AIFA e abbiamo stesso questo documento che rappresenta ecco la linea guida che deve rappresentare se me lo permettete il paradigma che noi consegneremo nelle mani di tutti i presidenti provinciali dei nostri delegati regionali affinché nell'ambito di interlocuzione con il decisore politico regionale e possibilmente in perfetta sintonia con l'organismo sindacale rappresentativo della farmacia si possa fare un sostanziale passo in avanti in una direzione che segni la svolta e se me lo permettete che dia a noi tutti la possibilità di dire alla politica ci avevamo visto giusto questa è la strada perché se noi facciamo un flop su questo versante indubbiamente dobbiamo investire le nostre energie per tirare per la giacca il ministro della salute o il ministro dell'economia e dire rifinanziamo questo fondo in modo più adeguato anzi dire in modo adeguato perché naturalmente in un emendamento abbiamo proposto di dotare questo fondo di 100 milioni giusto per incominciare a fare le cose seriamente vi rendete conto che quando dall'autorevole postazione di Luca Pani si incomincia a dire che facendo queste cose il farmacista collabora con lo Stato nel governo della spesa e come risultato di una migliore aderenza alle terapie non ci stiamo autocelebrando stiamo dicendo una cosa che ha un suo riconoscimento qualcosina è scritta anche nell'atto di indirizzo per la nuova convenzione io credo che questa battaglia noi la dobbiamo proseguire però la dobbiamo proseguire avendo dalla nostra parte gli elementi documentali oggi c'è questo elemento documentale le linee guida rappresentano un'autostrada sotto il profilo dell'evidenza scientifica che il lavoro che noi facciamo e quello che potremo fare va proprio in quella direzione mi sembrava giusto dirlo Luca e ti ringrazio anche per questo lavoro che abbiamo avviato e che proseguiremo con il tuo aiuto sono certo potendo raggiungere i risultati auspicati soprattutto come federazione c'è veramente l'occasione di settare gli standard per i servizi questa è una cosa che solo una federazione degli ordini può fare che è parte dello Stato quindi tu dici questi sono i servizi questi sono gli standard e sarebbe anche utile adesso il referendum l'abbiamo perso l'abbiamo perso ma almeno quella porzione del titolo quinto per cui l'articolo 32 dovrebbe essere eseguito e immagino in tutte le farmacie del territorio nello stesso modo se tu setti gli standard come federazione almeno consenti che questa cosa sia fattibile perché se no ognuno fa come vuole le differenze stanno diventando un po' pesanti e stanno diventando grazie mi sembrava necessario fare questa precisazione e dire a tutti quanti voi se me lo permettete iniziare dai colleghi presidenti degli ordini che su questo si apre una riflessione su cui naturalmente noi avremo la possibilità anche di apportare aggiornamenti e integrazioni secondo i risultati del dibattito che si aprirà all'interno della professione stessa la parola al professor Alessandro Mugelli che avevo già presentato dove vuoi grazie grazie molto perché per tante ragioni io rappresento qui oggi la società italiana di farmacologia e mi fa piacere che la discussione sia tornata su quello che è il ruolo del farmacista cioè qualcuno che fa parte del servizio sanitario nazionale e che dà un contributo estremamente importante ce l'ha detto il professor Melazzini l'ha ribadito Luca Pani il senatore l'ha detto all'inizio e molto è stato detto sul tema dell'aderenza quello che vorrei dire è che quello che è stato detto lo potete trovare anche su questo documento che era sulle vostre sedie e che è un documento che è stato fatto nell'ambito della società italiana di farmacologia però con la collaborazione di molte delle persone che sono qui oltre che dei clinici ecco diciamo stamattina abbiamo sentito qualche volta parlare di benessere bellessere su alcune di queste cose magari il farmacologo non si trova perfettamente a suo agio mentre invece molto a suo agio si trova quando si parla di pazienti e di situazioni quelle di cui abbiamo parlato ora se mi posso avere le diapositiva avevo qualche diapositiva non so come si può fare devo chiamarla da qui non sono le mie per cui prego forse le dobbiamo a perdone ecco 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 quindi la prima ricorda solamente questo libro e le ragioni per cui tra le ragioni della spesa sanitaria quindi oltre al documento delle linee guida che ha fatto la federazione forse senatore puoi portare anche questo documento qui a supporto di quanto diceva prima Luca Pani e io lascio questi aspetti perché naturalmente sono già stati assegnati volevo fare un paio di esempi per far capire la rilevanza che il farmacista può avere e per poi dare un segnale finale è stato detto da tutti che c'è un incremento importante delle malattie croniche e l'invecchiamento della popolazione e queste informazioni sono talmente evidenti che è all'occhio di tutti che il malato che abbiamo oggi di fronte è un malato molto diverso da quello di tanti anni fa questo comporta anche una necessità di interazione differente questo è tratto da una rivista che è del giornale ufficiale dell'American College of Cardiology che dice che il paziente con diabete con insufficienza cardiaca fibrillazione atriale negli anni 70 riceveva se andava bene tre farmaci una sulfonidurea per il diabete la digossina il varfarin e un diuretico come ci diceva prima Luca se gli veniva dato in una certa determinata maniera oggi il paziente lo stesso paziente con le stesse patologie perché stanno aumentando quei pazienti lì anzi diventano più complessi perché sono più anziani prendono due o più antidiabetici una statina un inibitore dell'enzima di conversione un ac inibitore oppure anche un bloccante del decettore un inibitore dell'aprilisina un beta bloccante perché nello scompenso deve prendere anche questo lo spironolattone i diuretici sicuramente l'aspirina come ci diceva Luca Pani per la questione dell'antiaggregazione e anche un nuovo anticoagulante se come i dati oggi ci dicono gli anticoagulanti orali stanno ormai sorpassando a livello mondiale l'utilizzo del bar e forse anche la digossina che rimane farmaco importante anche se le linee guida ormai lo metto in una situazione di diciamo ultima linea o terza linea ecco questo gruppo di farmaci naturalmente i medici devono aderire alle linee guida che portano a questo ma evidentemente l'abbiamo sentito o lo abbiamo intravisto sono responsabili di interazione farmaco farmaco della non aderenza alla terapia di una confusione del trattamento ecco qui il ruolo del farmacista diventa molto più importante che negli anni settanta è evidente che l'interazione col paziente quando si parla di tre farmaci è un'interazione più facile è molto più complicata una gestione di una terapia come questa che non riguarda secondo me solo l'aderenza Luca l'ha accennato chi fa il follow up Jack ripeto giornale ufficiale del cardiologio americano dice il paziente ha alto rischio mediamente incontra il medico molto meno di quanto incontra il farmacista questo è vero questo studio è stato fatto nel Canada quello che vi mostrerò quindi un paese che ha delle caratteristiche forse più simili a noi rispetto agli Stati Uniti ma sicuramente nelle nostre condizioni il farmacista vede molto più spesso quel paziente ma molto molto più spesso allora vi voglio far vedere questo studio che è pubblicato su questa rivista non è banale il fatto che lo dica perché non è una rivista di farmacisti è una rivista di cardiote l'efficacia degli interventi del farmacista sul rischio cardiovascolare è uno studio randomizzato multicentrico dopo sentirete da Andrea Manfrin un'esperienza italiana altrettanto importante ma questa qui a me sembra veramente significativa ecco che cosa succede qui si vede il gruppo dell'intervento è quello in azzurro e il gruppo che invece segue l'usual care è in quello rosso e quello che si vede sull'asse delle ordinate è il rischio cardiovascolare quindi non l'aderenza e basta alla terapia è questo intervento fatto dai farmacisti un intervento abbastanza complicato non forse facilmente trasferibile immediatamente nel nostro paese dopo tre mesi porta a una riduzione importante del rischio cardiovascolare cioè quindi il ruolo del farmacista è importante non solo evidentemente per le cose che sono state dette ma perché può migliorare la situazione della una tipologia di pazienti che è molto presente e qui si vedono i risultati sull'LDL la pressione sulla emoglobin glicata sul fumo quindi tutti quei ruoli di cui abbiamo parlato modificare lo stile di vita riduzione del fumo riduzione di tutta una serie di parametri che complessivamente danno un'indicazione del disco cardiovascolare possono essere ridotti da un'attività del farmacista certo qui sopra c'è scritto questo deve essere fatto in collaborazione in collaborazione con la medicina generale convincere il paziente non solo quello psichiatrico ma anche quello diciamo che non ha problemi psichiatrici a fare certi tipi di scelte qual è il punto ce n'è un altro quello dei farmaci innovativi anche il professor Melazzini ha toccato brevemente io farò lo stesso il numero dei farmaci che si stanno affacciando è un numero impressionante ingestibile come è stato detto da qualunque individuo nessuno potrà sapere mai tutto questo e Luca ce lo faceva vedere ci sono dei palmari dove scaricando delle app delle agenzie regolatori io dico agli studenti di scaricarsi l'app dell'AIFA perché evidentemente hanno informazioni indipendente regolatorie corrette che nessuno può avere e questo numero spaventoso di farmaci si troveranno alcuni di loro sul mercato avendo prove di robustezza come ci diceva prima Mario Melazzini che dovremo imparare a conoscere anche i farmacisti dovranno essere nelle condizioni di valutare la robustezza delle prove non solamente il fatto che qualche cosa sia stato pubblicato ma come è stato pubblicato che forza ha allora siamo pronti ecco vorrei finire con questo questo qui è un editoriale su BMJ che parla degli studenti di medicina e dice in Inghilterra Luca ci vive ora insegniamo facciamo un training agli studenti di medicina di cinque anni fa in Italia penso che siano di più gli anni indietro a cui noi stiamo insegnando e probabilmente anzi probabilmente e anche agli studenti di farmacia stiamo insegnando qualche cosa che è il passato non è né il presente né il futuro allora stamani si è parlato di crediti formativi di possibilità di modificare il corso di laurea in farmacia io sono arrivato alla convinzione che sia molto difficile ottenere tutto questo in tempi ragionevolmente breve credo che la cosa che si debba fare lo credo come Alessandro Mocelli come docente dell'Università di Firenze ma lo credo anche come Società Italiana di Farmacologia che si debbano riempire di contenuti quei crediti che noi abbiamo a disposizione ora quando poi un toscano comincia a parlare della propria struttura naturalmente ricominciano quelli bravi che poi parlano sempre male un fiorentino non un senese allora voglio dire vedo laggiù Andrea Carmagnini noi stiamo cercando di fare questo abbiamo fatto dei corsi chiamando i clinici perché non posso nessuno di quelli che fa parte di quei settori scientifico disciplinari che sono nel corso di laurea di farmacia e nelle condizioni di dare un'esperienza di trattamento dei pazienti con l'ipertensione non voglio di quelli psichiatrici nessuno è in grado di spiegare bene come un clinico che si occupa di questo di quali sono le problematiche e l'altra cosa che stiamo cercando di fare è di capire dalla parte della professione quali sono le esigenze ci siamo resi conto che noi continuiamo a chiedere a spiegare o a poi anche chiedere all'esame informazioni su farmaci che non sono utilizzate mentre non diamo informazioni su farmaci che vengono comunemente suggeriti anche dal farmacista qualche volta questo qui credo sia l'impegno che noi prendiamo e l'abbiamo preso con fare già un documento insieme su un tema che è l'aderenza potranno esserci altri temi che dovremo affrontare insieme ma naturalmente questo deve essere fatto per dare una formazione al farmacista perché possa essere parte del servizio sanitario poi dovrà sapere anche altre cose su cui il farmacologo magari darà un'opinione molto critica basandosi su quelle sulla mancanza di prove di efficacia o tantomeno e robustezza delle prove medesime e che purtroppo fanno parte anche di quello che in farmacia qualche volta anzi spesso si distribuisce successivi ecco credo che però in questo noi possiamo avere un partenariato continuo e vi ringrazio per avermi dato l'opportunità avendomi chiamato la prima volta a farmacista più a Firenze di continuare questa collaborazione grazie prima di dare il microfono ad Andrea Manfrin volevo affidare alla vostra valutazione una circostanza molto particolare che secondo me non è che si possa dire che si è compiuto un miracolo però merita una riflessione riprendendo anche un po' quanto è stato detto stamattina a proposito di curricula universitari nell'ordine hanno parlato Mario Melazzini Luca Pani e Sandro Mugelli tre medici tre illustri medici tre uomini di scienza e di valore ma tre medici io non so quanti di voi dieci o vent'anni fa avrebbero pensato di vedere in congressi nazionali della professione ascoltare parole di apertura così importanti e così concretamente realizzabili così come le abbiamo ascoltate oggi quindi per un verso dico che si è compiuto un mezzo miracolo con i cugini medici si è creato un livello di sinergia interistituzionale molto profondo e molto produttivo che ci deve far riflettere e deve rappresentare a mio sommesso abisso anche un fortissimo stimolo a meritare questa fiducia e a guadagnarcela ogni giorno sul campo la parola da Andrea Manfrin farmacista innanzitutto buon pomeriggio a tutti quanti adesso mi sento un po' in difficoltà perché oltre ad avere il Brexit sono l'unico farmacista assieme ai medici quindi sono abbastanza sfortunato oggi effettivamente però cercherò di fare del mio meglio in ogni caso innanzitutto scusatemi ma non sono capace di parlare fermo quindi mi devo muovere e qui il professor Pani magari mi farà una diagnosi di qualche malattia ma spero non oggi io vi parlerò fondamentalmente di quattro cose che si agganceranno molto a quello che è stato detto fino ad ora parlerò di aderenza parlerò di innovazione però la lente che io userò per mostrarvi l'innovazione è diversa da quella che è stata usata fino ad ora non è migliore è diversa poi parlerò di professione e poi parlerò di programmazione perché ho messo un titolo così bullet point come si dice in inglese con queste parole perché fondamentalmente il mio cervello lavora in modo molto semplice usa il sistema binario 0-1 quindi per me se le cose non sono semplici non le riesco a capire allora devo farle semplici così cerco di spiegarle anche in maniera semplice allora innanzitutto vorrei partire con una cosa di cosa vi parlerò allora la prima cosa vi parlerò delle nuove unità di misura di queste unità di misura ci ha messo al corrente il direttore globale della Novartis circa tre anni fa e ci ha detto che il mondo sta cambiando la catena dei valori nel sistema farmacia farmaco medicina sanità cambia e ci sono nuovi valori e nuovi strumenti di misura questi saranno gli strumenti con i quali noi dovremmo confrontarci seconda cosa vi parlerò di quello che abbiamo fatto assieme alla federazione e lo contestualizzerò in quello che si chiama la MRC framework cioè lo strumento le linee guida che il consiglio delle ricerche consiglio medico delle ricerche inglese da per sviluppare farmaci nuovi o per sviluppare dei servizi nuovi che sono quelli che sono le linee guida chiamate il gold standard si chiama MRC framework poi l'ultima parte del mio intervento riguarderà l'innovazione la professione la programmazione io cercherò di usare una specie di colla speciale per unire queste tre parole e mostrarvi come noi come io come quelli che lavorano con me come diverse persone vedono l'innovazione nel nostro mondo allora la prima cosa è questa le nuove unità di misura allora questa è una diapositiva che ho preso facendo uno screenshot quindi bloccando lo schermo di una presentazione fatta da Accenture Accenture è una delle quattro si chiamano consultancy boutique cioè agenzie di consulenza a livello mondiale che danno consigli suggerimenti cercano di capire in quale modo si svilupperà il futuro se voi guardate la diapositiva vedete che alla vostra sinistra c'è il mondo tra virgolette vecchio il mondo gestito dai volumi il mondo dove le unità di misura sono revenue cioè il fatturato market share la mia fetta di mercato gross profit il mio utile lordo questi sono gli strumenti vecchi sono strumenti che ormai sono mummificati gli strumenti nuovi sono invece gli strumenti che ci consentiranno di misurare il valore di quello che facciamo e questo valore dovrà essere generato da ogni attore della filiera nessuno si potrà esimere da questo se vuole giocare la partita e questi valori sono uno aumentare il valore nei confronti del paziente questo argomento è già stato toccato dai relatori che mi hanno preceduto due aumentare il valore di chi fornisce il servizio il farmacista il medico e così via tre aumentare il valore per quello che paga il servizio e chi paga il servizio può essere il sistema sanitario nazionale posso essere io paziente con il mio portafoglio o può essere una assicurazione privata con la quale io contrago una polizza e questa paga ok quindi questo è il passato questo è il presente e il futuro allora questo è molto interessante perché fino adesso si è parlato di aderenza c'è un bellissimo articolo pubblicato da una professoressa scozzese che si chiama Christine Bond che lo ha intitolato adherence in inglese the holy grail il santo graal tutti parliamo di aderenza tutti pensiamo di conoscerla ma come ha detto il professor Pani it's a difficult beast è un animale difficile non si capisce da che parte sta la testa da che parte sta la coda allora la mia domanda è questa molto banale come misuro l'aderenza come la misuriamo l'aderenza bene fate una piccola ricerca dieci modi non ce n'è uno che sia il gold standard il professor Pani ha detto biomarkers è vero ma in farmacia non posso utilizzare biomarkers non posso fare un prelievo non posso quindi capite bene che oggi come oggi nel 2017 non esiste il miglior strumento per misurare l'aderenza non esiste il gold standard ma ce ne sono tanti e ciascuno si adopera per usare quello che più di con fa o quello che meglio si adatta a quello che vuole fare è chiaro questo concetto? ok allora cosa abbiamo fatto assieme alla federazione abbiamo creato un progetto un progetto molto complesso molto articolato che ci ha dato delle buone soddisfazioni direi io l'MRC framework cioè questa specie di strumento circolare che non è poi circolare è una specie di quadrilatero un po' strano io l'ho messo in un cerchio quindi il consiglio medico delle ricerche britannico ci dice che generalmente per sviluppare un farmaco per sviluppare un servizio vanno seguiti quattro passaggi il primo lo sviluppo dell'idea il secondo testare l'idea quindi la sua fattibilità il terzo fare una valutazione dell'idea del farmaco del servizio il quarto portare questa idea sviluppata su tutto il territorio cioè estenderla a tutti sono stato chiaro ok allora la prima parte noi l'abbiamo fatta guardando a quello che i farmacisti facevano in tre nazioni l'Italia la Svizzera e l'Inghilterra abbiamo capito che questo servizio questa revisione dell'uso dei farmaci poteva essere un qualche cosa di valido l'abbiamo migliorato adattato potenziato creato ad hoc per l'Italia abbiamo fatto uno studio di fattibilità quindi l'abbiamo testato e poi dopo averlo testato abbiamo chiesto ai pazienti ai medici che cosa ne pensavano e ad anche i farmacisti quindi abbiamo avuto l'opinione come diceva il professor Pagni abbiamo messo il paziente al centro e gli abbiamo chiesto tu cosa pensi di sta roba qua funziona non funziona possiamo migliorarla la cambiamo con questo feedback siamo passati alla terza parte la valutazione e qui abbiamo creato uno studio clusterizzato e randomizzato che è abbastanza complicato su tutta Italia questo qui oggi ad oggi è lo studio più grande al mondo fatto nella farmacia di comunità utilizzando l'asma come modello io mi ricollego a quello che diceva il professor Malazzini l'asma è una patologia che si presta molto e noi l'abbiamo usata per sviluppare questa parte l'implementazione penso che l'implementazione sia quella che la federazione sta cercando di generare facendo le linee guida con i fondi a disposizione e poi estendere questo strutturando il servizio e facendo queste cose allora l'obiettivo dello studio era questo la domanda la domanda alla quale noi volevamo dare una risposta era molto semplice cioè valutare se questo servizio professionale fornito dai farmacisti era in grado di generare efficacia cioè aumentare il controllo dell'asma noi sappiamo che un'asma controllata costa poco un'asma non controllata costa molto cara questa era la prima domanda abbiamo usato come strumento di misura l'asma control test che è un modello standardizzato secondo punto molto importante ottimizzare il numero dei farmaci cioè vedere se l'attività del farmacista era in grado di ottimizzare migliorare che non significa ridurre aumentare ma massimizzare l'uso del farmaco nel paziente terza cosa identificare le problematiche relative all'uso del farmaco e aumentare l'aderenza terapeutica qui noi abbiamo usato un questionario per valutare l'aderenza ma abbiamo collegato il livello di aderenza con il controllo dell'asma e abbiamo visto che chi aveva l'asma controllata era aderente chi non ce l'aveva non era aderente quindi abbiamo fatto un collegamento la terza parte sotto il costo efficace importante perché come abbiamo detto e come è stato detto ci deve essere un valore un valore e questo valore deve essere come si dice in inglese value for money cioè quello che io faccio deve avere molto valore e questo valore è stato misurato con diversi strumenti lo abbiamo misurato in parametri economici e in termini di qualità della vita allora vi faccio vedere i risultati brevemente eccoli qua allora la prima cosa abbiamo visto che l'intervento del farmacista aumentava la probabilità del controllo dell'asma di 1.8 quasi il doppio in confronto a chi non aveva l'intervento seconda cosa abbiamo usato la evidence based medicine e abbiamo visto che il numero di pazienti che devono essere trattati NNT ho dimenticato il T era 10 quindi molto molto basso perché generalmente l'NNT è molto alto negli studi qualche volta anche 2-300 poi abbiamo visto che l'intervento del farmacista aveva ridotto il numero dei principi attivi mediamente utilizzati dei pazienti la riduzione dell'8% da 5 a 4 abbiamo visto che l'aderenza era aumentata a 3 mesi dall'intervento del 35% e a 6 mesi dall'intervento del 40% e poi abbiamo calcolato utilizzando una tecnica che si chiama cost benefit analysis il ritorno dell'investimento cioè io ho stato io governo pago il farmacista per fare questa attività qual è il mio ritorno abbiamo creato 6 differenti scenari lo scenario peggiore faceva in modo che pagando il farmacista pagando tutti i costi che sono collegati il governo spendeva 1 e prendeva 98 nello scenario migliore 98 centesimi nello scenario migliore il governo spendeva 1 euro e risparmiava 3,62 euro quindi un ritorno dell'investimento molto alto poi abbiamo preso il dataset e siccome questi dati li abbiamo analizzati noi abbiamo dato il dataset ad un'altra università blind cioè non sapeva come era fatto lo studio non era stata coinvolta nella progettazione non aveva avuto niente a che vedere con noi purtroppo non abbiamo scelto la prima università al mondo ci siamo dovuti accontentare la seconda la London School of Economics ma insomma bene comunque in ogni caso hanno analizzato i dati e hanno visto che utilizzando quella che si chiama cost effectiveness analysis che la probabilità siccome lo studio durava 9 mesi la probabilità di successo dell'intervento era del 100% a 9 mesi quindi l'intervento tra virgolette garantito non si sbaglia detto questo perché vi dico queste cose perché queste si collegano alla diapositiva iniziale che avevo tirato fuori cioè vi avevo detto valore per il paziente valore per chi fornisce il servizio valore per chi paga il conto allora il valore per il paziente aumento del controllo dell'asma il valore per chi ha fornito il servizio noi avevamo calcolato una remunerazione per il farmacista di 40 euro per questo servizio ok e il valore per il servizio sanitario nazionale che risparmia i soldi con una probabilità di successo del 100% ok quindi fondamentalmente noi abbiamo creato un modello di sviluppo che è assolutamente si può dire perfect match cioè che si collega in maniera molto molto precisa con quali sono i nuovi sistemi di valutazione e di remunerazione ma questo non è tutto perché adesso vi introduco l'innovazione e vi parlo di quella che noi vediamo come innovazione allora prima cosa sappiamo che la genetica dei pazienti è importante la proteomica è importante la manifattura additiva 3D printing se ne avete sentito parlare altrimenti è un nuovo modo per produrre i big data lavoro condivisione lo ha detto benissimo il professor Pani e domani probabilmente svilupperà molto il discorso quindi i dati ci forniscono le informazioni ma c'è una cosa molto interessante che è l'utilizzo di quello che si chiama Associated Desktop Technology cioè l'associazione dell'attività del farmacista a una tecnologia nuova dirompente vi farò vedere subito e attaccare questo al pharmaceutical care cioè a quel tipo di servizio che il farmacista ha offerto prima e quindi produrre una medicina personalizzata attraverso un servizio personalizzato allora c'è un'importantissima azienda a livello mondiale che è molto interessata a questo e sta pensando di finanziare e sviluppare una modalità che produca cartucce che contengono farmaci che queste cartucce vengono date nelle farmacie ospedaliere nelle farmacie territoriali per stampare i farmaci al momento on the fly questa è una delle tre aziende più grandi al mondo che è interessata a questo tipo di attività e quindi in farmacia si dà il farmaco creato al momento come funziona ci vuole un extruder quella macchina lì che costa 50.000 euro si mette dentro un qualche cosa si mescola questa specie di polenta scusate la faccio breve questa roba qui crea quello che vedete nella bottiglia uno spaghetto una specie di filamento questo filamento contiene il principio attivo questo principio attivo lo metto nella stampante stampo quella griglia di prodotti ed ecco le pastiglie se vedete quelle righe quelle righe bianche le vedete quelle righe bianche rappresentano la concentrazione una riga 5% due righe 10 quindi io stampo una pastiglia con una concentrazione ad hoc la sua diversa dalla sua e la sua è diversa dalla sua lo faccio in farmacia questa non è fantascienza questa la fa il mio collega che si chiama Dimitrios Lampur il cui laboratorio è a 50 metri lineari del mio quindi io sono qui lui è là lui fa questo ok quindi questo è realtà non è domani è ieri perché le pastiglie le ha stampate già qualche mese fa costo della stampante quello che vi costerà in farmacia 1000 euro al valore di oggi se voi avete tante farmacie tirate sul prezzo 800 ovviamente non devo dirlo io lo fate voi no? è ok allora cosa succede quindi? succede che i nuovi servizi professionali avranno tre componenti tre saranno i building block i mattoni dei servizi professionali e sono questi il primo il know how del farmacista la conoscenza del farmacista abbiamo parlato del sviluppo della formazione importante seconda cosa si è parlato di valutare le cose utilizzando delle metodiche robuste e la metodica robusta riconosciuta dalle agenzie di rimborso è la Health Technology Assessment HTA la terza cosa è la produzione tecnologica del farmaco in situ in farmacia allora questo l'abbiamo fatto nel progetto italiano PHC Pharmaceutical Care vuol dire la revisione dell'uso dei farmaci utilizzando la evidence based medicine adesso abbiamo inglobato abbiamo creato uno strumento unico al mondo che presenteremo a Roma proprio in Italia e la FOFI patrociterà questo dico giusto dico male dico giusto così non si può tirare indietro ormai ovviamente e poi ovviamente ci sarà questa componente questo è già ce l'abbiamo già abbiamo lavorato l'ultimo anno per crearlo è il primo strumento al mondo il primo servizio cognitivo che il farmacista fa che ha contenuto in se stesso che si dice built in Health Technology Assessment di default viene misurato mentre lo si fa non solo questo misura i quali che sono la qualità della vita misura real world data i dati reali misura la real world evidence e quello che hanno detto prima il professor Pani e il professor Melazzini il follow up cioè long term disease progression modeling ci fa capire come la malattia evolve si trasforma peggiore migliore è statica capite? ok questi sono parametri molto importanti perché l'assicurazione private utilizzeranno modelli di calcolo baesiano per andare a valutare quello che succederà per stabilire il premio perché se ho un'assicurazione privata pago oggi per tutto l'anno allora loro vogliono capire qual è il mio premio oggi quali sono le chance che io mi ammalo 1, 2, 25 questo funziona è normale allora questo è il modello che presenteremo appunto a Roma la conferenza mondiale di HTA cioè l'Health Technology Assessment Conference 2017 lo facciamo in Italia perché iMure è stato sviluppato in Italia questo servizio l'abbiamo sviluppato in Italia quindi abbiamo voluto portare in Italia il lancio a livello mondiale di questa cosa quindi il futuro della professione l'FP è un'equazione matematica banale ma molto banale ha dentro dei parametri C, T, R, V e poi c'è una X come in qualsiasi equazione che si rispetta ci deve essere sempre un'incognita allora prima cosa C è la cultura dobbiamo cambiare la cultura dobbiamo acquisire cultura nuova tecnologia io vi ho parlato di 3D printing ma con il professor Pani i Big Data Smart Technology tutte queste cose qui la pillola con il sensore il PH e tutto questo dobbiamo misurare risultati e dobbiamo fornire risultati misurabili attraverso la evidence based medicine e attraverso Health Technology Assessment e poi dobbiamo creare valore e il valore è una cosa banale è il risultato di una sottrazione il beneficio meno il costo se il beneficio supera il costo abbiamo creato valore verremo riconosciuti verremo pagati se il beneficio è superiore del costo in inglese dice forget it dimenticalo non succede non ho detto cos'è la X la X è la variabile che contiene tutto quello che c'è intorno e questa X secondo me è una cosa fondamentale fondamentale la volontà ricordatevelo se non c'è volontà se non c'è willpower non si va da nessuna parte questo è essenziale allora conclusioni prima cosa investire in ricerca e sviluppo uguale a programmare in inglese si dice che sbagliare la programmazione significa programmare l'errore allora il mio concetto è programmiamo bene programmate bene e avrete successo seconda cosa i dati devono essere robusti abbiamo visto evidence based medicine health technology assessment l'AIFA vuole questo e noi questo dobbiamo dare all'AIFA FDA non è importante l'agenzia parliamo la stessa lingua allora abbiamo il dialogo applicare le nuove unità di misura il valore per il paziente il valore per chi fornisce il servizio il medico il farmacista il valore per chi paga il conto se chi paga il conto non ha valore non tira fuori i soldi ed è giusto che sia così lo dico fuori a detto dimostrare valore per tutti 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 industria farmaceutica tutti 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 devono portare a caso qualcosa win win è la parola d'ordine win lose non si va da nessuna parte mi dispiace concludo con una diapositiva che è questa non so se la conoscete si chiama Usain Bolt è l'uomo più veloce del mondo cosa molto interessante è questa io ho parlato con un mio collega perché c'erano le olimpiadi in Inghilterra qualche anno fa allora gli ho detto ma questo qui è uno che corre però gli ho detto grazie di fatica per correre 10 secondi e lui mi ha risposto questo qui si è allenato 20 anni per 10 secondi willpower volere e potere vi ringrazio tutti abbiamo perso il moderatore strada però ce la facciamo lo stesso a me è il compito di cercare di fare le conclusioni che è il compito sempre più ingrato ma è giusto che sia così qualche riflessione prima abbiamo qualche slide ma siccome mi viene sempre in mente un po' la corazzata Potionkin che era vissuta nei film di Fantozzi come il peggior incubo dei suoi amici cercherò di fare meno slide che poi non vanno neanche più di moda l'abbiamo visto e invece passare a qualche a qualche conclusione che mi viene più spontanea poi tornerò su qualche su qualche invece spunto che abbiamo preparato la prima cosa che vorrei dire è che sulla adesione alle terapie la federazione ha fatto un investimento che comincia dal 2006 quando forse parlavamo per primi in Italia di questo tema e che sicuramente eravamo un po' così presi come dei matti ora invece come scherzavo prima col professor Melazzini sono delle volte in cui me la insegnano come si fa e quindi sono tutto contento perché vuol dire che a furia di portare avanti un ragionamento poi i ragionamenti buoni vanno davvero sulle gambe della gente con la testa abbiamo un progetto che comincia da allora e che tutti tutti gli anni viene incrementato e viene affinato nella sua sensibilità per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi abbiamo avuto tanti passaggi importanti io voglio ricordare che in questo momento grazie a un emendamento alla legge di bilancio tutte le regioni hanno ricevuto dei fondi perché il farmacista venga retribuito per questa specifica funzione e non si scappa le regioni non possono fare tra virgolette le furbe l'emendamento contenuto della legge di bilancio dice che questi soldi sono dedicati esplicitamente a rimunerare il farmacista quindi non c'è trucco non c'è inganno bisogna che a livello regionale ognuno di noi ogni uomo della Federfarma anche sappia portare a casa questi soldini che sono stati già stanziati e già messi nel portafoglio di ogni assessore alla sanità delle nostre regioni però stavo dicendo prima noi vorremmo cercare di fare qualcosa di più il primo passo sicuramente sono queste linee guida che abbiamo voluto preparare che oggi vi abbiamo distribuito e le avete vedo un po' tutti al vostro fianco al posto dove siete seduti ecco questa è una linea guida aperta una linea guida che ha bisogno di tutti noi di tutti voi un work in progress una volontà davvero di affinare un progetto perché i progetti vincenti sono quelli che sono vissuti da ognuno di noi come un pochettino fatti anche da noi e quindi l'idea è quella di riuscire a elaborare delle linee guida che siano davvero un documento di standard per tutti noi questo è il passaggio culturale molto importante standardizzare per essere davvero efficaci sul territorio un altro punto che vorrei assolutamente riprendere poi magari lo faremo anche vedere velocemente in queste slide che seguiranno dopo questa parte più a braccio è che io mi ricordo sempre la prima volta che ho incontrato il professor Pani e al quale rompevo un po' le scatole con questa storia degli innovativi lui adesso fa il modesto ma rompevo le scatole lui mi ha preso un po' così nelle spalle e mi dice ma voi sapete che per fare gli innovativi dovete studiare di più ti ricordi Luca con la rubidità che gli amici devono avere quando ti dicono una cosa scomoda perché molto spesso io sento anche i nostri convegni un approccio molto minimale al farmaco innovativo che è un po' il ragionamento che abbiamo sempre fatto noi cioè il prodotto si prende dico prodotto farmaceutico e viene portato al paziente al cliente ecco se noi vogliamo fare gli innovativi questa cosa dobbiamo scordarcela cioè arrivare all'innovativo presuppone una preparazione che è molto diversa da quella che noi finora abbiamo considerato nell'approccio di ogni realtà che noi interfacciavamo o interfacciamo nella nostra quotidiana attività lavorativa dietro al banco e questo è un po' quel cambio culturale che è necessario fare ma che vedo spesso ancora latitante purtroppo certe volte anche in qualche responsabile di categoria nostra e io e Luca ci siamo capiti cioè il problema ragazzi è che noi abbiamo la volontà di farlo ma dobbiamo capire che non è una cosa banale anzi assolutamente allora due sono le idee che secondo me sono importanti la prima realtà è quella che è contenuta in questo libricino che è un libricino che io vi lascio perché voi lo leggiate perché siate in grado di darci un feedback per fare questo percorso comune c'è un'altra seconda sfida che è un po' il fil rouge di queste tre giorni l'ambizione nostra è uscire da questi tre giorni cominciando a preparare perché non sarà sicuramente pronta lunedì al termine domenica al termine dei lavori del congresso una linea guida generale per affrontare la nostra professione nel futuro una linea guida generale che nel 2006 nella piena emergenza nel momento in cui le lenzuolate premevano alle porte quindi avevamo bisogno di dare una risposta rapida veloce e ovviamente poco partecipata perché quando la casa brucia devi fare il pronto intervento non puoi organizzare molto studiandolo prima ma ora vogliamo avere l'ambizione in questi tre giorni di cominciare a costruire con voi il primo passo di una professione nuova quindi tutti i lavori tutte le singole sessioni tutti i singoli contributi saranno analizzati e processati saranno la base di un documento che io porterò al prossimo consiglio nazionale l'avevo annunciato a Natale i colleghi presidenti e quindi stiamo rispettando la cronologia che ci eravamo imposti per creare insieme quello standard della professione che è importante e guardate che nel momento in cui ora io non so sarà motivo della sessione domani quindi sfumerò per non bruciare tutti i contenuti domani il momento in cui si stanno affacciando anche i capitali al nostro mondo vedremo se come questo purtroppo la politica va presa sempre indicando ora e data in cui fai ragionamento perché settimana scorsa eravamo quasi certi di arrivare già con il decreto in aula ora è ancora più un po' più ritardato ma la legislatura sicuramente è più lunga in questo momento quindi c'è spazio per trovare una soluzione anche al disegno di legge sulla concorrenza ecco ma nel momento in cui arriveranno i capitali la risposta nostra della professione com'è rispetto a chi entrerà nel nostro mondo perché la legge consentirà l'ingresso nel nostro mondo allora noi dobbiamo cercare di fare uno standard qualitativo che permetta a tutti i professionisti di sapere qual è il livello dove posizionarsi questo è il grande sforzo di queste tre giorni questo è il primo grande sforzo di questi tre giorni perché ripeto lunedì non ci sarà una cosa da leggere e su cui sedersi tutti ma sarà un percorso che vogliamo fare insieme e quindi una stagione anche nuova della federazione cerchiamo un po' di standardizzare i nostri processi per essere sempre più pronti a dare una risposta alla sfida che noi giustamente vogliamo raccogliere di un sistema sanitario che vuole di più dai professionisti ma che noi dobbiamo davvero costruire insieme e dobbiamo davvero metterci nell'ottica che tutto deve cambiare per poter essere per poter cercare di sopravvivere come Darwin ci ha insegnato quindi qualche veloce considerazione per dirvi che sulla zona terapie noi stiamo facendo questo percorso importante e questo è un primo passo ma un altro tema importante è quello dell'innovazione l'abbiamo detto tutti ce lo ridiciamo non esiste una professione qualsiasi professione dalla più umile alla più sofisticata che non si avvalga dell'ultimo ritrovato della scienza dell'ultima scoperta e che lasci fuori dalla propria applicazione quotidiana del proprio lavoro questa novità ecco noi in questo momento come farmacisti al banco lo sa il professor Melazzino lo sa il professor Pani siamo esclusi dal circuito che ci mortifica perché tutti i farmaci sono importanti non è che la furosemide sia un farmaco di serie B però è pensabile che un professionista che voglia freggiarsi di questo titolo sia di base cortocircuitato dall'innovazione per un problema economico certo in mia colpa dobbiamo farlo io l'ho sempre fatto e non mi assolvo perché allora ero così giovane da incidere poco nella professione però noi abbiamo sbagliato completamente a leggere la 405 noi la 405 l'abbiamo letta come una volontà di creare un canale alternativo e invece era sostanzialmente l'impossibilità dello Stato di andare avanti con farmaci che costavano sempre di più a considerare il farmacista economicamente con una percentuale che tutti sapete ecco quello sicuramente un errore che ha segnato il futuro della farmacia però è un errore che ora dobbiamo cercare di emendare allora in questo senso sicuramente riscrivere le regole per la remunerazione del farmacista diventa importante per affrontare il futuro e anche per dare sostenibilità al sistema perché in questo momento la farmacia sta veramente male sotto il profilo economico che non è una richiesta per volere di più ma è perché purtroppo ogni settimana ogni settimana io mando una circolare a tutti i presidenti in cui segnalo una, due, tre farmacie fallite uno, due, tre farmacie che vengono vendute dal comune perché non trova più remunerativo mantenerle all'interno dei servizi che eroga quindi pensare davvero a riscrivere le regole per trovare la sostenibilità e sono sicuro che con il professor Melazzini questo sarà un percorso che a breve potremo davvero toccare quindi torno al punto noi abbiamo l'ambizione di consentire la distribuzione in farmacia di tutti i medicinali a carico del servizio sanitario nazionale ovviamente con la sola esclusione di quelli che richiedono particolari cauteli in fase di somministrazione questo lo voglio dire con chiarezza non siamo né pazzi né fuori dal tempo o dal mondo è chiaro che per noi questo è un vantaggio veramente per la gente perché in questo momento ridurre le barriere all'accesso dei farmaci è un dovere è una cosa assolutamente ineludibile abbiamo bisogno di avere omogeneità del servizio abbiamo bisogno di migliorare il governo della spesa farmaceutica e dobbiamo ovviamente anche chiudere un po' quella piaga della frammentazione all'accesso al farmaco regionale che effettivamente è un momento su cui fare una riflessione seria anche se non era certo il referendum il momento dove affrontare questo tema farmaci innovativi stanno arrivando l'abbiamo già detto l'hanno detto chi mi ha preceduto ne stanno arrivando tanti ed importanti siamo tutti professionisti del farmaco ma capite che pensare di guarire da malattie gravi senza neanche passare da una cronicizzazione è un fatto che deve veramente renderci consapevoli del momento straordinario che stiamo vivendo e mentre appena dopo la mia laurea c'è stato un momento in cui ci siamo un po' interrogati sul fatto che non c'era nessuna novità importante del mondo della farmacia ora i farmaci nuovi stanno arrivando e stanno arrivando in maniera importante questo ci rallegra tutti ed è un fatto veramente importante però il problema è quello che vi dicevo cioè noi dobbiamo essere in grado di essere preparati a questo cambiamento e dobbiamo avere strumenti culturali idonei per poter supportare il cittadino cambia la vita cambia il mondo non è più una forma farmaceutica diversa dello stesso prodotto sulla quale io lo stesso tipo di approccio qui abbiamo davvero da superare questo shock da innovazione ed è un fatto che però si fa ancora fatica a far penetrare nei ragionamenti dei colleghi allora la federazione comincia a buttare il sasso nello stagno lo fa in maniera concreta quello che vi sto presentando è un prodotto finito non è una cosa che verrà forse quando dopo Pasqua prima di Natale adesso vediamo e decidiamo noi abbiamo un percorso di formazione che abbiamo fatto anche avvalendoci di AIFA e quindi noi con l'agenzia italiana del farmaco meglio l'agenzia italiana del farmaco con noi perché senza la disponibilità prima di Luca Pani e poi del professor Melazzini questo sarebbe stato impossibile abbiamo studiato un momento formativo che sarà ovviamente sotto il cappello di farmacista più anche perché questo è il nostro permettetemi marchio dell'innovazione stiamo per mettere a disposizione una corso FAD che attraverso quindi moduli online possa offrire ai farmacisti quegli strumenti importanti che ha quindi la finalità di rendere il farmacista preparato e il cittadino sicuro di trovare nel farmacista le risposte questo sarà il modulo con cui noi ci vorremmo muovere ve lo lascio come sfondo per capire come sarà impostato queste sono quelle molecole che AIFA ci ha segnalato come quelle che saranno le più interessanti da studiare per noi che saranno quelle su cui il nostro apporto potrebbe essere veramente importante come vedete un progetto serio reale concreto una risposta davvero alle nostre esigenze partendo da cose sostenibili cose che possono avvenire quindi una federazione che si muove che cerca con voi delle linee guida per essere tutti standardizzati nella risposta al cittadino un modello di evoluzione reale e in questo cocktail ovviamente manca solamente la cosa più importante che spero di avervi trasferito noi sicuramente possiamo cambiare ma dobbiamo davvero capire che dobbiamo cambiare prima noi la farmacia ha un futuro se come al solito come succede da 800 anni saprà trasformarsi in maniera darwiniana perché non è mai il più forte che vince ma è quello che si adatta ora noi in questo momento dobbiamo adattarci per superare questo momento di transizione rilanciare con forza una figura di un professionista aggiornato sulle molecole nuove sulle realtà nuove sulle possibilità nuove della nostra professione e possiamo farlo solo se la federazione degli ordini sarà attenta a darvi delle risposte e questa è la mia promessa grazie e buon lavoro